Secondo appuntamento della FAI per parlare questa volta delle opere del Gaggini, Bagalati protagonista del Rinascimento in Astromonte. Diciamo che oggi il convegno tratta un po' di tutte le opere del Gaggini tra Sicilia e Calabria, ce ne sono tante, però noi potremmo dire, sicuramente lo diremo meglio domani, quando parleremo soprattutto del nostro monumento, del nostro gruppo marmoreo che ha fatto il Gaggini a Bagalati, ma nel vedere questa carrellata che questi studiosi stanno facendo, sicuramente quel gruppo marmoreo non sarà nella classifica bassa delle opere gagginiane, ma sicuramente in quelle altre. Noi siamo orgogliosi che anche attraverso questi approfondimenti, questi convegni che sono ad alto livello, si ridia spessore al valore di questo monumento che abbiamo a Bagalati del Gaggini. Noi abbiamo tutto l'interesse a valorizzarlo e ovviamente per questa regione abbiamo salutato con grande interesse le giornate del FAI d'autunno che domani e dopodomani ci saranno a Bagalati.